Il Comune di Ribera proprio recentemente ha ribadito con un documento approvato dal Consiglio Comunale la propria contrarietà al progetto di ricerca di sali potassici e alcalini alla foce del fiume Platani, ma la battaglia viene sostenuta anche da diverse associazioni. Oggi scende in campo Italia Nostra di Sciacca, che ha formalmente chiesto all'assessorato regionale al territorio ambiente di sospendere in autotutela la verifica della valutazione d'impatto ambientale che è stata richiesta alla società General Mining per il progetto denominato Eraclea. Per l'Italia Nostra è stata finora assolutamente carente la documentazione prodotta per l'intero progetto che interessa un'area particolarmente importante sul piano paesaggistico e non solo. La zona in cui dovrebbero essere fatte le ricerche occupa parte dell'alveo del fiume Platani e a circa 2.000 metri dalla costa lambisce il laghetto Gorgo, incrocia la statale 115 caratterizzata da Uliveti e Vigneti. Eppure, denuncia Italia Nostra di Sciacca, sul sito della Regione gli unici dati disponibili dell'intero progetto sono una istanza piuttosto generica ed una documentazione non tecnica, quando al contrario i cittadini hanno diritto ad avere informazioni ben più precise e dettagliate. È quanto si sollecita alla Regione e all'assessorato territorio ambiente, chiedendo nel frattempo la sospensione di tutte le procedure di valutazione e conseguente approvazione che sono state avviate.